Anche il fronte indipendentista unido, come altri gruppi che puntano all'autodeterminazione della Sardegna, si schiera nettamente per il no al prossimo referendum. Da indipendentisti e da uomini e donne che amano la libertà, si legge nel comunicato del FIU, non possiamo che essere contrari ad una riforma iniqua che puzza di P2 e di rimando a Licio Gelli, ideatore del piano di rinascita democratica, che insiste sulla necessità di accentrare ed efficientare lo Stato. Il viatico del potenziamento degli esecutivi e lo svuotamento dei parlamenti rientra tra l'altro a pieno titolo nelle richiamate raccomandazioni del capitale finanziario europeo riguardo le presunte soluzioni per uscire dalla crisi. Chiarati i motivi ispiratori della riforma, il FIU motiva il no con una serie di pericoli per l'autonomia regionale e per la sovranità popolare. La cosiddetta clausola di supremazia fatta secondo il FIU per spogliare di ogni valore la legislazione regionale, l'aumento delle soglie e delle firme per le leggi di iniziativa popolare per il referendum e altro ancora. In estrema sintesi, è chiaro come il DDL Boschi fa sì che il governo diventi il vero e unico titolare sia del potere legislativo che di quello esecutivo, si legge nel comunicato. Questi sono i colpi decisivi con i quali si avvia un processo di disarticolazione degli ultimi residui di democrazia formale. Ciò che dovrebbe realmente essere riformato, insiste il comunicato, è lo statuto autonomistico sardo, inserendo i diritti linguistici del popolo sardo, oggi nemmeno menzionati, e dichiarando a chiare lettere che la Sardegna è una nazione capace di esercitare sovranità e autodecisione, qualora lo ritenessi opportuno.